Un servizio di sostegno alla genitorialità, un luogo per stimolare la crescita e l'attenzione dei più piccoli, una ludoteca e un servizio che integra la mission della scuola paritaria dell'infanzia Oasi San Francesco della parrocchia di San Francesco d'Andria, ovvero dare attenzione e cura ai più piccoli. Tutto questo è spazio giocoso, lo spazio inaugurato presso l'Oasi di San Francesco a favore dei bambini dai 12 ai 36 mesi, a raccontarci questa nuova esperienza la progettista Lella Agressi. All'Oasi di San Francesco si inaugura un nuovo spazio definito spazio giocoso, di che si tratta? Lo spazio giocoso è un luogo dove i bambini più piccoli possono trovare degli stimoli e delle possibilità di crescere insieme a degli educatori, a degli esperti che daranno loro una serie di input e faranno con loro delle esperienze sicuramente importanti di pittura, di musica, di lettura. Lo spazio per i più piccoli. Ci mancava questo pezzetto che va ad integrare un po' quella che è la nostra mission, cioè quella di curare i piccoletti. La fascia di età che sarà protagonista di questo spa? Noi prendiamo bambini da un anno ai tre perché poi proprio nella prospettiva di quello che sarà la scuola del domani non si parla più di pezzettini o di segmenti di formazione ma da zero a cinque anni. Quindi noi vogliamo sperimentarlo ed essere pronti a questa innovazione attraverso le nostre competenze. Questo è un piccolo spazio che si aggiunge anche dal punto di vista logistico. È una piccola area destinata ai più piccoli accanto a quella che poi è l'area destinata alla scuola dell'infanzia. Appunto simbolicamente anche a completare questa varietà di attività e di offerta formativa. Sì, sì. Noi abbiamo degli spazi che sicuramente i bambini più piccoli possono utilizzare, che sono la biblioteca, che oramai è un nostro fiore all'occhiello, la palestra e la mensa. Noi abbiamo la mensa interna e quindi i bambini potranno sicuramente anche loro assaporare i manicaretti dei nostri angeli custodi, che sono le signore che abbiamo qui, che sono davvero il nostro pezzo forte. Quali sono le attività che proponete? Chi si occuperà di gestire questo spazio che peraltro non è soltanto nella fascia antimeridiana? Noi vogliamo creare un'offerta completa. Un'associazione curerà tutte quelle frazioni temporali che la scuola dell'infanzia e questo spazio giocoso non riescono per i tempi, per come siamo organizzati, a supportare la famiglia. Quindi nell'orario pomeridiano oppure negli orari festivi, con qualsiasi necessità, la famiglia si può rivolgere a noi in maniera da avere in tutto questo una risposta che al momento non c'era. E quindi noi siamo contenti di aver creato questa rete che è di supporto alla genitorialità. Anche attraverso degli incontri che già facciamo con i bambini e con i genitori della scuola dell'infanzia, che vogliamo in qualche modo portare anche all'interno di questi spazi nuovi.